e la giurma io sono a te stesso e ben ritrovati qui su questo nuovo episodio di expeditions vikings visto che abbiamo fatto tutto orkneyar direi andiamocene a schierm visto che siamo in una linea per il temporale parallela schierm non ci siamo mai andati siamo andati direttamente orkneyar e adesso torniamo a schierm per una nave sembra abbandonata però avviciniamoci c'è un vecchio uomo è un ragazzo sono alla deriva da molto tempo li brucierei come sacrificio agli dei ok giusto ok va bene tanto il pesco e due poveri pescatori sarebbero stato chissà quanto un'altra nave ci sta inseguendo aspettiamo no acceleriamo perchè è tipo veloce un piano alleato con gli yelling aia una freccia colpisce roskva ah ok una nave più piccola allora hanno desistito però abbiamo roskva che si è fatta male per fortuna siamo a qua a casa per cui hulda potrà pixare tutti gratis dai dai loading di tutto c'erano varie cose che devo fare qua metterei in pausa perchè alcune cose le abbiamo già viste tipo parlare con i tizi qua davanti parlare con i tizi là fuori la roba di nefia quindi ci vediamo tra un attimo eccoci ho fatto tutto ci rimane a parlare con hulda vediamo un attimo se ci dice qualche cos'altro la famiglia di nefia ha bisogno del tuo aiuto tutto 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 prendiamo la 2 no ok non voleva qualcosa di là vabbè ok ok non ci ha detto nulla di diverso dobbiamo andare comunque aperto e basta tra l'altro mi pare che ci rimanga solo più quello e poi dobbiamo fare la la parte di nord umbria sì 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 ci rimane solo più quello direi che ce ne andiamo allora partiamo di nuovo andiamo verso pert ah no 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 mi stavo dimenticando non ho parlato con mia madre metto in pausa perché adesso l'abbiamo già visto ok siamo per mare e andiamo pert per questa roba qua vada ripariamo chi deve riparare ehm Ketil è il più bravo nooo si è fatto male Ketil ehm sono finita le strade ehm direi di andare a upgrade delle farms zzzzzzzz sì mi sicuro che stiamo andando su Prosperity non abbiamo dei thrall purtroppo dovremmo comprarne magari ma non so se ehm allora scendiamo senza Ketil prendiamo Aife questo giro ehm ok se proprio non sta tanto bene vediamo un attimo se avremo dei problemi eh sì allora vediamo un attimo se c'è qualcuno che ok allora no non schiavi questo vende schiavi no c'erano altri commercianti vero da qualche parte ma c'era uno qua che aveva solo del cibo se non sbaglio lo porto dall'altra parte dell'isola dove c'è la strega poi c'è il fabbro mi sa che forse solo a in Nortumbria c'erano dei venditori di schiavi vabbè niente proviamo a chiedere a Myrddin se sa qualcosa di sta medicina qui sono due pizzi qua no a chi devo parlare scusatemi qua ah la strega stupido io eccola dove siamo? ah ci va un attimo però qui là ci sta non voglio farmi scarozzare in nave dai mi sembra il caso dai hop hop ho visto la sagoma di qualcosa di male dicevo che cavolo allora avremmo bisogno di suggerimenti riguardo a una malattia oh finalmente qualcuno mi chiede di una malattia non voglio essere insensibile ma mi sto annoiando con le maledizioni e gli spiriti dei demoniaci ok spieghiamo i sintomi ho sentito di una malattia del genere penso che sia causata dal morso di qualche piccola creatura della foresta il clan di McBaraig è stato molto colpito da questo e sanno come trattarlo ma penso che sia che questi siano problemi mio caro perché Barak è il più grande degli nemici di Caustantin lui soltanto è resistito all'alleanza e il suo clan attacca tutti quelli che si introducono a casa sua forse mi ascolterà non solo un pitto uno dei pitti dopo tutto ah odio gli stranieri ancora di più se vuoi comunque cercare la cura là troverai McBaraig il clan di McBaraig nella foresta sud-est di Perth ah si preparato per un combattimento ahia guai guai all'orizzonte troppo guai all'orizzonte dai prima prende la barchetta si prende la barchetta ok guarda gesto l'ho risparmiato un po' di tempo non è che fosse così necessario no? allora dov'è che è il posto dove dobbiamo andare? ha detto sud-est ah là ok forest clearing dobbiamo comunque scendere in giù è parecchio in giù e allunghiamo un po' però allora qua c'è qualcosa da liberare? no I put low security andiamo su questo tanto c'abbiamo tanta gente che si ferma e qua invece ah qua ce n'è uno occupato qua andiamo a liberare questo dai? prima di dormire tanto c'è uno sprochettile che è leggermente ah no starving niente niente allora ci fermiamo qua andiamo a combattere il prossimo giorno se sono tutti che sta morendo di fame non allungherei ancora di 4-5 ore allora tanto sposto il faccino lasciamo come l'altra volta cosa che abbiamo allora della carne che va male vabbè abbiamo tizio che sta male per cui roskva che brava hachil stiamo ketil e poi facciamo ancora ketil e poi siamo a posto in seguito roskva fa un preserve visto che di carne ne abbiamo parecchie adesso no non preserve scusa facciamo un witchcraft così convertiamo un po' di erbo e medicine io posso preservare in parte ketil che ti devo dire non può fare altro perché sta male o guardare o preservare c'è qualcuno eh 18 di carne vanno male che ti devo dire ne abbiamo 41 di carne fin troppo 41 di carne vengono solo due che vanno a cacciare vero sì almeno non rischiamo dei problemi da questo punto di vista 15 witchcraft beh facciamo comunque mettiamo da parte 23 unità di cibo ah ma non è un dente è un dente cariato dobbiamo toglierlo ah vadi povera povera eeeh ok tutta posta alla fine ketil sta bene quindi adesso possiamo usarlo per andare a picchiare la gente da caso no allora eeeh si ci sono degli insetti nooo i pensi fatti male per le eeeh vespe vabbè la cureremo qua tanto ketil si è ho detto 12 erbe le perché per casa forse non so comunque buono dai adesso non abbiamo più troppi problemi di erbe di medicinali allora prendiamo questi soliti ragazzi tra l'altro gunner e hazley perché sono poco ben presi non so quando ci saranno utili continuare a tenerli cioè io continuo ma a un certo punto ci tradiranno o ci lasceranno o comunque sono meno efficaci perché essendo sempre con morale super basso eeeh può essere un problema allora vediamo qua cosa abbiamo abbiamo 5 nemici restanti allora per prima manderei hazley perché c'ha lo scudo ah ci sono due giri allora hazley vai qua poi io vado qua ahia what damage eeeh curalo please e qui spostati eeeh allora gunner gunner può anche venire qua dietro dai ci sta sperando che non ci siano altre trappole ok sembra di no faccio che farli girare tutti di qua va hai visione su qualcuno? no non così tanta avanza avanza almeno fin qua 63% 45 27 39 ah andrei su questo ma che è scudato per cui nulla meglio andar su di lui andata bueno ma tra l'altro io ho ancora il inspire vadi sei inspirato inspirare espirare andrà di nuovo bene mi sta di no infatti però lanciamo una pietra così a caso mancato gunner no niente posto turno del nemico no ci sta insultando oddio aia aia avrei scommesso anzi che non me l'ha tirato giù cavolo mi ha tirato giù tutto lo scudo con un colpo solo questo è molto 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 male allora facciamo un charge su questo intanto intanto poi katil potresti questo c'ha questo è il 37% ce l'hai davanti alla faccia però meglio di no forse perché è al buio allora quello è andato ma se io stunnassi questo allora lo facciamo così ok gli facciamo il sassolino stunnato ok così qua dovrei fargli un danno incredibile però aspetta un attimo no prima voglio vedere tu adesso con il doppio c'hai più possibilità no solo 7% mareu è andato top allora 5% ma come prima c'aveva più possibilità perché adesso ne era di meno muovo qua allora ma porca miseria allora visto che Roskva non sta bene se io facessi un cure qua quello che è slippato vedi ma come hai fatto mancarlo da tuoi passi allora spariamo lui davanti io vado qua ma no mi ha intrappolato e Roskva direi stai qua dietro però no è più in linea di quello vai vai qua ma questo continua a demoralizzarci mancato ottimo aaaah perché hanno tutti una mira incredibile della morte e io invece poco 0 di 0 ok ok andrei qua ok fai un charge poi Roskva vai a curare nefia e nasconditi dietro che ti ho paura comunque che ti tirino qualcosa in faccia allora tiriamo giù questo tiriamo giù qua tiriamo giù questo va se ci arriva perché ci saranno trappole probabilmente no invece buono e nulla questo chiuderlo non riusciamo a chiuderlo vada così aia col coltellino ma mi spiace ciao è andata abbiamo liberato anche questo regat ottimo ottimo senza nessun problema Roskva abbiamo rischiato di perderla seriamente ma nulla di che detto questo concludo io il discorso dell'accampamento ci vediamo nel prossimo episodio vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi se perché non l'essi già fatto ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti buona giornata ciao a tutti